Sprinter Lavor è la lavasciuga pavimenti pensata per la casa e per gli esercizi commerciali, come bar, ristoranti e negozi. Progettata con criteri professionali grazie all'esperienza quarantennale di Lavor Wash, Sprinter è molto semplice ed intuitiva da utilizzare, con solo tre comandi, accensione, asciugatura e lavaggio. È possibile lavare ed asciugare con un'unica passata, oppure in caso di sporco persistente, prima lavare e poi asciugare in un secondo momento. L'efficacia pulente di Sprinter è massima, perché lava sempre con acqua pulita. Una passata con Sprinter equivale a tre passaggi col normale spazzolone, con un notevole risparmio di tempo e fatica, ma soprattutto ottenendo risultati assolutamente migliori. Le ruote antitraccia non lasciano aloni sul pavimento, che risulta subito pulito e calpestabile, senza tempi di attesa. La speciale spazzola in dotazione è adatta per qualsiasi tipo di pavimento, anche sul parquet prefinito. La spazzola rotante e il doppio tergi pavimento consentono il lavaggio e l'asciugatura sia in avanti che in retromarcia. L'utilizzo di Sprinter è semplice. Basta riempire il serbatoio con acqua pulita e pochissimo detergente ed in un attimo puoi iniziare a pulire il pavimento in modo nuovo, più efficace e senza fatica. L'elevata capienza del serbatoio evita soste frequenti per il riempimento e consente un'azione pulente e fluida e continua. Usando Sprinter ti stupirai della facilità con cui rimuove anche lo sporco più persistente. Hai un pavimento difficile da pulire? Prova Sprinter! La sua efficacia ti conquisterà! Guardi il PiA Guardi il PiA Servite il PiA Brumb makan Sprinter ha il manico completamente reclinabile e quindi può pulire anche al di sotto di tavoli, sedie e mobili in generale, garantendo un'azione pulente completa. Sprinter risulta sorprendentemente maneggevole ed efficace, risolvendo i problemi di pulizia, di abitazioni e piccole attività. La puoi spostare dove vuoi, quando vuoi. Al termine del lavoro, in un attimo si vuota e si ripone sulla sua pratica pedana di stazionamento, fino alla prossima necessità. Sprinter! Una sola passata e il tuo pavimento supererà la prova del fazzoletto bianco.